Cyber Security Italy, su che cosa verte l'intervento di oggi? Oggi il mio obiettivo è quello di dare un overview generale su chi è Sofos, anzitutto sulla nostra vision, come noi interpretiamo l'evoluzione delle minacce attuali e soprattutto sulle soluzioni e la piattaforma di soluzioni fatta da prodotti e servizi che andiamo a fornire verso tutte le aziende. Di che cosa si tratta? Allora ci racconti un po' l'azienda. Certo, allora Sofos in breve ha una vision lunga, è un'azienda che da 40 anni su questo mercato non è una start-up, è un'azienda che pertanto è dovuta sopravvivere adattandosi all'evoluzione delle minacce e quindi la sua vision si può racchiudere in due parole che si chiamano sicurezza sincronizzata, una vision che ha visto poi effettivamente l'uscita di una piattaforma di Synchronous Security nel 2017, inizio 2017, la prima azienda di security al mondo che ha realizzato un'infrastruttura di security fatta da prodotti e servizi che potessero parlare tra di loro. Questa evoluzione, questa Synchronous Security poi ha avuto un ulteriore proseguio, oggi siamo, se possiamo dire, alla Synchronous Security 2.0 che prende il nome di Adaptive Cyber Security Ecosystem, cioè un qualche cosa che si basa sull'integrazione delle varie componenti ma soprattutto si apre all'esterno a infrastrutture che non sono softwares, si integra con piattaforme DC, ma comunque con sistemi, piattaforme già preesistenti sul cliente e offre in parallelo la competenza dei nostri laboratori attraverso l'analisi dei dati eterogenei che vengono raccolti attraverso questa piattaforma, quello che farò vedere questa mattina, vengono raccolti, analizzati e quindi andiamo a fornire un servizio che prende il nome di Managed Threat Detection e Response. Un ultimo punto, presenterò anche il nostro servizio di Rapid Response dando indicazioni molto chiare, un numero di telefono molto semplice, italiano peraltro, dove dirò praticamente a tutti che qualora qualche azienda avesse bisogno, fosse sotto attacco, può chiamare questo telefono, questo numero di telefono, rispondiamo direttamente noi, i nostri laboratori e andiamo ad analizzare la situazione dando evidenza di quello che è successo e andando a proporre quello che deve essere fatto per risolvere il problema immediato, quindi diamo anche un aiuto a questo aspetto. Quindi un business in continua evoluzione, in uno scenario complesso e mi sembra di capire che la rapidità di intervento e tutto il vostro customer che è concentrato su questo. Sì, farò vedere anche degli indicatori di performance del nostro servizio, quindi noi chiamiamo i medium time, cioè praticamente i tempi medi di risposta e di risoluzione, sono indicatori assolutamente ufficiali, testati, ricordo che questi nostri laboratori ovviamente sono entità che non si improvvisano a fare questo lavoro, lo fanno da 40 anni, sono tutte persone certificate, lo facciamo a più di 6.500 aziende al mondo, quindi diamo garanzia per questo aspetto. Grazie a tutti!